Il Museo della Civitella di Chieti presto vedrà un gruppo di giovani musicisti, ma ci saranno spazi dedicati a tutte le arti con laboratori programmati grazie alla volontà di accogliere le richieste dei ragazzi, studenti teatini ma anche tanti pendolari universitari. Va in questa direzione la sigla del protocollo di questa mattina all'auditorium Cianfarani che ha visto la presenza del direttore Marcello Iannicca. Questa necessità è stata evidenziata dai ragazzi durante un incontro pubblico e quindi ero presente in quanto direttrice dei musei nazionali d'Abruzzo, ho sentito la necessità di mettere a disposizione questo luogo ai ragazzi perché un museo è essenzialmente un luogo della cultura, una casa della cultura, quindi loro devono essere liberi di poter entrare, uscire e soprattutto fare cultura qui dentro, quindi studiare, fare musica. Noi abbiamo degli ambienti che si prestano a questo e quindi è quasi normale che un museo sia a disposizione della popolazione studentesca. L'Associazione di Promozione Sociale Il Giardino delle Pubbliche Letture, che negli anni è stato un punto di riferimento per consultazioni del mondo giovanile e degli studenti per mancanza di spazi adeguati da dedicare allo studio e alle attività culturali, rappresenta un anello di congiunzione di tutte le attività che verranno programmate. Ci mettiamo a disposizione per essere l'interlocutore formale di questa disponibilità che finalmente giunge e noi ci auspichiamo che siano anche altre le risposte che nella città si possano avere perché questa parte di cittadinanza, quella dei giovani, possa trovare luoghi di qualità e quindi attraverso i luoghi di qualità esprimere anche la propria creatività, i propri desideri di socialità qualificata. Ecco, quindi è una educazione al patrimonio, al rispetto, al fruire di beni pubblici con la possibilità appunto di avere attorno la bellezza che possa stimolarli e dare tutto ciò di positivo di cui ovviamente si ha bisogno proprio in un passaggio importante della propria vita. Grazie. 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 Grazie.